di Caltanissetta, nello specifico di Alba. Gimitatano è qui per presentarci la famiglia degli Argo d'Oro. Ora, questi Argo d'Oro hanno una caratteristica. Sono padre e quattro figli maschi, tutti con un nome che inizia con la lettera E. Eligio, Egidio, Emilio, Evaristo ed Erasmo. Adesso vi devi togliere una curiosità del perché. Tutti iniziano con la lettera E. Perché tu hai scritto in un passaggio che hanno di comune soltanto il cognome, ma ognuno di loro ha una vita a sé, una vita che è un mondo, una vita che è un universo parallelo, che parte dal paese d'origine, gira il mondo e li ritorna. La scelta dei nomi, tutti con la lettera E, è stata dettata dal caso. Come spesso fa il caso? In modo assolutamente quasi senza una spiegazione. Mi serviva, inizialmente, per scegliere il nome del patriarca, il padre di questa famiglia, nonché quinto personaggio, in realtà quasi nascosto, dei quattro su cui c'è trattato. Il regista potremmo dire di tutto.